La giunta comunale di Castellabate, su proposta dell'assessore alle politiche sociali con delibera numero 75 del 12 giugno 2020, ha deciso anche per quest'anno di realizzare un centro estivo per minori. Si è così deciso di far partire il servizio utile ai genitori che non possono occuparsi dei propri figli a causa del lavoro estivo. Il progetto prevede l'ospitalità per i bambini dai 3 fino agli 8 anni tutti i giorni dal 1 luglio al 31 agosto dalle ore 8 alle ore 13 e 30 con esclusione delle domeniche del 15 agosto. Le attività ludiche e didattiche verranno svolte presso la palestra pane bianco di Santa Maria e negli spazi all'aperto adiacenti. Le mattinate verranno trascorse con giochi, letture, passeggiate, disegni e attività manuali. Gli interessati possono procedere all'iscrizione compilando il modulo scaricabile online e presentandolo entro e non oltre il 26 giugno presso il segretariato sociale sito in via Roma a Santa Maria insieme alla documentazione richiesta. Il numero degli iscritti non potrà essere superiore ai 35 bambini. In caso di esubero verrà applicata la graduatoria in base al reddito rilevato dall'attestazione ISEE valida. L'assessore alle politiche sociali Elisabetta Martuscelli dichiara in merito alla ripartenza del servizio un'iniziativa fortemente voluta a seguito delle numerose richieste pervenute che intende soprattutto quest'anno riproporre un servizio molto utile ai tanti genitori e lavoratori in un momento particolarmente delicato per le famiglie.